Non ho capito ragazzi, lei col moto schifo ha raggiunto il cancello che abbiamo appena aperto Sul fine del capitolo precedente, però io credo che qua ci aspetti un'altra battagliona Alla faccia della battagliona Dove sei? Morto adesso, ecco dove sei, in cielo, anzi all'inferno Che razone Fuori uno, fuori due Dunque ragazzi, ultimi tre capitoli molto adrenalinici, mi piacciono, mi piacciono Ti vedo Infatti t'ho visto e t'ho preso Anch'io ti vedo, ciao Who's next? Tu Oh, 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 oh Che fai? Che fai? Non ti vedo, aspetta Prima c'è una cosa più importante Fuori, godo Non ho preso nessuno, vero? Ovvio che no Forse adesso sì Ma finché non ci passo davanti non lo saprò mai Sì, l'ho preso Perfetto Benissimo Bastardissimo Vai Ok, loro sono quelli più pericolosi Quelli vestiti Non sono anti-sommos Ma più o meno ci siamo Ma adesso dove andiamo? Questo è il dilemma principale Dove andiamo? Ok, lì Ovviamente il cancello non si può aprire E ci deve essere un metodo E ci deve essere un metodo Invece sì, è questo qua il metodo Ok Oh, a posto Proprio Buttata lì a casa Ma ha funzionato Cancello affonda E noi andiamo Tu raggiungi la torre Ci rivediamo all'ufficio doganale Che tanto brulicherà di bastardi Anche stavolta Appunto Sti bastardi che Si muovono e non si muovono Oh Oh, 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 oh Pensavo venisse dall'altra parte Invece Tutt'altra cosa Non riesco a captarli Aspetta qua No, no Mi devi dare la pistola Le munizioni della kappa Però Non vuole tanto sapere Adò è che sparano Vabbè Lo scopriremo Esplorando Ok, laggiù Lo fanno Oh Vuol dire che muoiono 631 colpi Ma alla fine Ce l'abbiamo fatta No, l'ho lanciata io la granata Non è che mi devi copiare Aspetta, ma dall'altra parte che devo andare No Sono nella merda Ho fatto la cazzata assurda La cazzata che più cazzata non c'era Ok Ma basta con ste granate Basta Che due coglioni Si vede Ok Ok Perché mi cambia l'arma appositamente? Che palle Fuori Dai coglioni Sei morto Bangsat Eh Invece ti rimane lì Fra Ti rimane proprio lì Finiti? Speriamo di sì Però finché ci sono munizioni A me va bene Ok Relax momentaneo Un secondo Qua non si può fare nulla No Ok Allora Tentiamo un'altra strada Potrebbe essere questa Sì Ma anche no E invece sì Nessuno ha detto di fare questo Questo gioco è paragonabile a FIFA Fa quello che cazzo gli pare Te gli dai un input Ma lui farà sempre quello che vuole Con i passaggi Mentre stai facendo Mentre stai avendo un'occasione da gol pazzesca Ti passa la palla dove cazzo vuole lui E perdi l'azione Succede sempre così Solo che questo è un gioco del 2006 Quindi Non glielo vorresti perdonare Ma glielo perdoni qua Ce ne saranno altri sicuro Vedendo le barriere, le trincee Altri bastardi in arrivo Aspetta no 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 Bastardissimo Ok ragiono un secondo Io ti devo prendere Te laggiù Ti devo prendere per forza Come ti ho preso Alla fine ti ho preso benissimo Ok Via C'è uno con i razzi Ah Questa fa male Però siamo ancora in piedi Non dobbiamo farci prendere Perché all'inizio Sto bastardo è innocuo Poi dopo Se fate interessante la situazione Aia Oh Dieci anni dopo Ok ragiona 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 Ok Vieni qui C'è neanche se li spari a un metro Li ammazzi a volte Ricarica Ok Volete fare gli stronzi Sparatemi tutti con la K47 A me non mi prendo le munizioni No Perché di questi La K47 Non ce l'ha nessuno Fuori uno Sono in quattro Ah Stanno ammazzando Fuori due Ci è rimasto uno indietro Laggiù Va bene Non c'è problema È mezzo innocuo Per ora Devi scendere Sta lì Gongoleggia Devi scendere Cazzo Quando ho l'input Devi scendere Non c'è cazzi Invece qualcuno La K ce l'ha E come se ce l'ha Vabbè Non andiamo avanti Invece no Oh Chi è il bastardo Che sta sperando da là Questo non ti salve È sempre lui Al riparo E lui non c'è più Perfetto Oh Ok Dove sei? Oh vabbè Sei lì Easy Super easy Dove sono i prossimi Di qua Per forza Eccolo lì Neanche nei coglioni Funziona Piuttosto Perdo la mascolinità Ma continuano a sparare Bellissimo Cioè Assurdo Super realistico Più che altro E' quello il punto È tutto ok Però adesso Dove andiamo? Oh papà Lassopra 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 Ok C'è qualcosa qua da usare Sì C'è questa catena qua Ok Hai teso la mano Ok Va bene Va bene L'importante è non essere morti Poi va bene tutto Vai su Nathan Vai 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 Niente Doveva fare il pagliaccio Per forza Sennò proprio Non era contento Su Su Di qua forse Altra catena Invece no Invece sì Ok Un altro E qua Signor Drake Come facciamo? E' tosta la situazione Perché se casco Muoio sicuro Non è che magari Devo andare Da un'altra parte Tipo lì No No aspetta Forse può essere Sapete Sapete che forse Ci può stare Se si fa il giro Dall'altra parte Invece sì Invece sì Invece sì Invece sì Sali su Ok Benissimo Non far cazzate Bene Via Ecco E' neanche tempo Di dire Aspetta Mi lasso un secondo Invece nulla Ragazzi Nulla Non c'è Tempo Spazio Modo Che poi era uno solo Ma vabbè No Munizione AK Intanto Poi Lei dov'è? E' qua giù Aspetta Vai Ok Troviamo una strada Per il porto E speriamo che la barca Sia ancora lì Benissimo